Un gesto di protesta, quello di abbandonare la carica di presidente del Consorzio di Polizia Municipale Vallesseriana da parte di Eugenio Cavagnis, sindaco di Nembro, dovuta ai dissapori sull'obbligo di scioglimento dei consorzi partecipati previsto dalla finanziaria 2010. Cavagnis, come polemicamente già ricordato ai nostri microfoni, evidenzia come gli enti che verranno eliminati sono solo i consorzi, circa un centinaio in Italia e 13 in Lombardia, con un risparmio per la spesa pubblica davvero irrisorio. Il suo posto sarà occupato nelle prossime ore da Matteo Parsani, sindaco di Prada Lunga, nuovo presidente designato all'unanimità che avrà il compito di gestire al meglio l'ultimo anno di vita del Consorzio fino al maggio 2012, quando a Nembro si terranno le elezioni amministrative. Gravoso incarico perché soprattutto la situazione legislativa in questo momento non è favorevole per quanto riguarda i consorzi, però senza nessuna polemica, nessuna voglia di fare delle sterili polemiche, la mia voglia è quella di andare avanti, di soprattutto recepire quello che è la volontà dei nuovi comuni consociati, quella di proseguire con questa iniziativa che tanto ha dato e tanto può ancora dare. Non si chiamerà più consorzio, vedremo se riusciamo ad avere delle proroghe o si chiamerà con qualche altro nome, però la nostra volontà di proseguire e il mio impegno sarà massimo proprio per cercare una soluzione in tempi brevissimi per procedere. Da parte dei comuni consorziati c'è la volontà di continuare l'esperienza, perché valida. L'obiettivo è arrivare entro giugno a valutare proposte per mantenere in vita il Consorzio. Già quello che è il nuovo quadro legislativo ci darà una mano perché i comuni piccoli per forza si dovranno unire, consorziare, gestire dei servizi insieme perché giustamente il quadro economico non ci permette più di avere dei servizi singoli per ogni comune, soprattutto per quelli che sono piccoli. Questo sarà una grossa spinta e poi vedo che nella mentalità degli amministratori la mentalità è cambiata, c'è più voglia di fare squadra, di lavorare insieme, cosa che magari prima si guardava il proprio orticello, ora si vuole andare oltre e lavorare per i beni dei cittadini.